Francesco Signorelli, tecnico della Madonna del Latte, seconda vittoria consecutiva per voi. Sei risultati utili, questo 3-0 contro il Trasimeno. Momento positivo, state scalando posizioni. Sì, diciamo che dopo una partenza un pochino con più difficoltà stiamo cercando di risalire la china, non per raggiungere obiettivi importanti ma proprio per cercare intanto una nostra dimensione in questo campionato, che ancora non sappiamo bene i valori di tutte le squadre, quindi vediamo un po' quello che sarà il futuro. Diciamo che veniamo da due vittorie consecutive importanti, fatte anche dietro a una prestazione, quindi sono tre partite che non prendiamo gol, quindi fatto mai successo per noi, quindi stiamo cercando di trovare degli equilibri giusti per poter affrontare di partita in partita le nostre avversarie. Unica nota negativa è qualche infortunio di troppo, vero? Sì, diciamo che purtroppo dall'inizio stagione abbiamo subito tre infortuni gravi, perché comunque rottura dei crociati, nasi rotti, zigomi, eccetera, eccetera, non erano stati messi in preventivo, quindi abbiamo tre o quattro giocatori che purtroppo dovranno stare lontano dai campi per un po' di tempo, però diciamo siamo un buon gruppo, una buona rosa fatta di tanti ragazzi, anche giovani, quindi diciamo non ci facciamo la testa, quindi la domenica anche i nostri giocatori giocheranno anche per quelli infortunati, diciamo. Ecco, possiamo dire Francesco che la prossima sarà una sorta di esame di maturità, perché affronterete in casa il Valfabbrica che di punti ne ha 14, far bene vorrebbe dire anche crescere in autostima, oltre che mettere i punti in classifica. Sì, diciamo che già da queste due partite abbiamo accresciuto la nostra autostima, quindi abbiamo raggiunto anche livelli di convinzione maggiori. È ovvio che un risultato positivo con il Valfabbrica darebbe ulteriore slancio, sia penso al gruppo che alla classifica, però siamo anche ben conscienti che affronteremo una squadra che è una sorta di corazzata per questo girone, che è partita diciamo, non dico a rilento perché comunque ha due punti dalla prima in classifica, però diciamo che anche nelle ultime due partite ha fatto nove gol, quindi ha un potenziale offensivo di primo ordine, e quindi cercheremo di rendergli la vita difficile, la vita dura. Il risultato è importante perché comunque ci potrebbe proiettare anche su una situazione di classifica magari all'inizio non preventivata, quindi vedremo quello che potrà succedere domenica, intanto la prepareremo, diciamo la stiamo preparando bene, quindi vedremo quello che accadrà domenica, insomma, sperando di un risultato positivo.